Oggi ragazzi è un giorno triste perché Gala mi ha appena detto che probabilmente non giocherà più a Fortnite Però spiegherà tutto in game perché anche io voglio capire Ok Gala? Ci spiegherai un po' il tutto, non so per quale motivo, ok? Naturalmente, decodattina possibile nello shop se volete shoppare queste skin spettacolari Per fare il provino ci sono le abbonamenti in descrizione E se volete migliorare il vostro ping, guardate, io praticamente 1000% gioco con il 4G C'è quest'app miracolosa in descrizione, provatela Modalità spettatore, Gala, spiegaci un po' che sono troppo curioso Cioè, come mai questa decisione? Cioè, ci sta, eh, ognuno è libero di fare ciò che vuole Però, all'isoletta? O sbaglio perché non mi ha renderizzato niente? Sì, all'isoletta Oh mio Dio, ma cosa sto vedendo? Ok, per tranquilli Ok, per tranquilli, vabbè, giustamente il gameplay non è importante Spiegaci un attimo, Galone Esatto Allora, io sto decidendo di abbandonare il gioco più frequentemente Infatti è già un mese che non gioco Eh, infatti non ti vedevo più online, infatti non c'era più nei video Principalmente per problemi di gestione del tempo E perché questo gioco sta cominciando ad essere noioso Ok, non ti... Ah, praticamente non ti piace più, è semplice Per questo, non ti piace più e non è una tua priorità attualmente Ok, a me dispiace un botto, cara Ti ricordo che giocavamo sempre insieme, porca miseria Eh, lo so Mo non gioco neanche più, io ci ho fatto caso Sto giocando molto più a FIFA E poi sei da PS4, cosa? È vero, non è più... Mi ero proprio dimenticato Che è successo all'Xbox? Eh, l'adattatore non si colletteva bene, dava problemi Airpad, mi... Tutte queste cose insieme Vabbè, ci può stare Sì Però quando ci... Ma per i video non puoi dire di no Ogni tanto ricomparirai, Gala, dai Certo, ogni tanto ci starò sempre pure io Ah, sì, è un cicilius Ok E inoltre altri motivi sono principalmente La concentrazione più sulla palestra e sulla scuola Che quest'anno è bello difficile Cioè, quindi... Ok, abbiamo capito che hai cambiato priorità Gala è diventato... Oh, un altro Un altro bot, fra Gala... Quello so io Gala cosa è diventato? Ecco, Gala è palestrato Parliamo di palestrate Gala sta diventando un giga, Chad Da Fortnite... Oh, ma tutti... Non lo so Tutti i Fortnite player vanno in palestra Basta che non mi diventi un fuffacuro Perché c'è presente? Tutti i Fortnite player di un tempo Sono diventati criptogurus Sì, sì, sì Ra, ci vede che non giochi, eh? Si vede che non giochi Cioè, ti ha buttato in una lobby di bot Però meglio Ma hai qualcos'altro da dire? Oppure hai finito qua? No, veramente durante il video Avrei una cosa importante da dire ancora Una cosa importante da dire? Dai, Gala, però mi sono scaricato Sto a notizia così Cioè, vado un po' casà Fammi casà Allora Notizia triste Ci sono bot, quindi neanche posso casarmi Che video è, Gala? Fammi casare Cioè, parliamo di cose fighe Ti piace Halloween? Ti piace Halloween? Molto bello, molto bello Ti piace Una delle stagioni migliori Nel senso di festività, intendevi? Sì, sì, sì Ma pure l'atmosfera che c'è in tv Nelle pubblicità In giro per i negozi Nei videogiochi Guardare i film horror È bellissimo, bellissimo Natale ti piace? Penso di sì un po' a tutti Bellissimo pure Natale Allora, Natale o Halloween? Natale o Halloween? Ehm... Forse Natale un pizzico di più Pure a me Poi? Le altre festività? Eh, altre festività? Boh, no In realtà Solo Natale e Halloween Allora, ragazzi Pensavo di essere speciale Ma tutte le persone Sono come me A quanto pare Cioè, poche parole Gala giocherà di meno Però nei video Ogni tanto ci sarà Per qualche cosa Ma l'hai preso? La scopa l'hai provata almeno? Spero di sì No Ok Perfetto Puoi scendere quando ti pare Con la scopa Infatti lui è un cretino Poteva scendere E prendi la scopa Come movement Fattelo e prendi la scopa Sta qua dentro Oh È matto Ma quattro vita Non ci credo Cosa? Ah, era un altro Cioè, me ne sono beccato un altro È un altro Era pure scarsa Ci sono pure i pochi morti Vabbè, sti cavoli Dai, facciamo un game Che becchi gente seria Dai Secondo tentativo Gala Stiamo ancora aspettando La cosa importante Stiamo ancora La dici adesso Oppure Perché sono curioso O è un troll Quindi la cosa importante È un troll Forse No, non è un troll Perfetto, va bene Qualcuno qua dentro Oh, ma quanti so Com'è possibile? No, ma perché si Ma non hai messo coppie? No Non ti sei sbagliato? Sicuro, eh Però si stavano sparando Si stavano sparando Ma adesso sono rincoglionito Si, sono rincoglionito Perché non sto più dormendo Per fare i video Faccio due shorts Un tiktok e un video al giorno Ma questo è pingatissimo Però mi sembra Niente Eh, non si può prendere il muro No Eh, vabbè Finché non arriva la safe Non esce probabilmente Niente Ragazzi Una pippa Con zero di ping Ok, grande E lo lasci lì così Ok Non si è più regalato una volta, eh Un altro Ma dove sei? Ma il bro è pazzo Fra, tu non hai mazzo Ricorda, eh Ecco, ok Ecco Non hai movement Niente Tu non trovi movement Scappa Fra, scappa Scappa È la cosa migliore Oh, ma questo c'ha la Tommy Fra Sta' attento Questo c'ha la Tommy No, gala Si vede che non stai giocando Beh Porca miseria Come l'hai preso? Fra Prenditi la Tommy Ecco, questo è No, no, fra Non ti builda Metti la piramide Ok Fra, questo è rincoglionito Te lo devi fa per forza In tutto ciò ancora Non è un movement È assurda Galesso ancora aspettava Cosa è importante Non me morì Mazzo Eeeh Vabbè Eeeh, niente Oh, invece sì Uhuuu Non giochi da un po' Ma mamma mia Ancora il galone, eh Il galone nazionale qua Ti prende la Tommy Per forza Ragazzi, non si trova Allora, sta No, forse sta Soprata la jump Fra È caduta Non lo so, di sotto A caso No, non lo so È impossibile Ho visto qualcosa Scendi, scendi Cos'è? Cos'è? Ok, eccola qua Vedete L'avevo visto Come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto ad arrivare lì? Non si sa Fra, questo è un player fortissimo Secondo me Ha vinto La World Cup Buga Non è Cioè È lui Lui è il vero Buga Ma qualcuno ha provato a sniperarti Lo sai, sì Ah no, c'è che Basta Airbot Che ha provato a sniper Non c'è No, fra Non ci credo Ah, no, no, no Questo non era il bot Fra, sto bot fa più danni che in uso Ma che sta fa? Sta fermo Ma Ma Ha il punto interrogativo Ma Eccola Utilissimo questo bot Ti ha fatto solo prendere dei colpi Fra, prova Prova la giocata Prova la giocata Entri nel team principale Te lo dico, eh Ah, sei già nel team principale Vabbè Eccolo, eccolo Lo vedi? Lo vedi? Oh no, non lo vedi più Eh, lo vedi Eh, non lo vedi più Fra, hai perso Non lo so Un po' di tempo Guarda L'aveva senso Guarda Ah, questo Uno spammer Un po' Ok Oh Questo Ti giuro che sembra Ciris Fra, hai visto che stavo andando dritto sparando Senza buildare Senza saltare Vabbè Il galone Eh, niente Eh, no E non è più quello del tempo No Eh, dopo questa gala Secondo me No, invece no Ancora un po' Un po' c'è Poi è double 4 Ricordiamo la parte di scherzi, raga Ecco Ecco, ecco Ti è rimasto Oh Ma questo Fra, come non hai sparato Ma c'è la Tommy Ma niente Cioè Bucalo Dai, la scopa Che poi Bravo E gli ritorno in faccia Ha perso la ground così Il tizio buffo Incredibile Quanto toghi ha safe Quanto alle splash C'ha la spada Il bro Ma aspetta un attimo Questo era quello scarso Era quello che sparava Mentre era il Terminator Cicirios Sì Ah, bene Ora gala Ti faccio una domanda Stra importante Però devi essere sincero Ok Con noi Secondo te Sei più forte Te o Ciris Ciris di poco Eh beh, di poco Ma io non capisco Sono già tornato in a season 1 Questi Ma, ma Che cazzo Ragazzi Sto stai buildando Metà delle robe Ah, questo è fatto Sì, è questo Ma Quanto male Hai visto quello Che mirava qualcosa Sì, il problema È che non ho più pazza Ce l'è uno là, gala Non so se ti sei accorto Ma Dove eri te Lo vedi? Dove eri te? C'è stato uno che salta Che cacchio è una dalpa Frate, lo devi sopprimere Allora, me l'ho sparato Tommy Mamma mia Mamma mia Hai rischiato Fra, almeno c'hai maz C'hai maz Ma lo spasso Eh no, questo è matto Ma questo che cazzo di gioco Stava giocando? Fra, questo c'è Lut tutto suo E sceso con sto loot Capito? Lui ha messo modalità Easy No, no, è meglio quello Tutta la vita Siete avvicinati a lontano Il problema è che non hai vita Non hai vita, fra Devi trovare qualcosa Che trovi in endgame? Ricordati che siete in quattro Dove stanno tutte e tre Ricordati che non mi builda Sto notando Ok, lui scende Il bro scenderà Il problema è che non hai vita, fra Un hit e sei morto 38 col spasso oro E ti ha Avevi la scopa, ricorda Il bro è un supereroe Là sotto ci sono cure, fra Non sai, sì C'è pure un pesce, mi sa Qua a sinistra Eh sì Oh, mamma mia Fra, eh Che vista bionica, c'ho Più una che sta in safe Mangiate questo subito Mangiate l'altro Che cosa stai facendo, gala? Hai perso più vita Di quella che avevi prima Vola, gala Sei morto di safe Gala, che mossa sbagliata Fra, ti tocca la safe E sei morto Ti guarda la safe E sei morto Non hai maz Sei morto, gala Sei morto, gala Sei morto, gala Non puoi fare niente Sì, sì, che posso fare qualcosa Vediamo Raga, secondo me Facciamo le scommesse Iniziamo le scommesse Secondo me vince Secondo me non vince Non ce la fa Perché non ha materiali Non ha vita E la safe si sta muovendo molto cattiva E l'avversario sta già là Quindi Quello c'è il zucchetto, fra Ma io l'hai incollato Non ci credo Oh, c'è sta quella a sinistra L'hai visto? Ok Oh, ma tutti qua Tutti e tre qua Non ci credo No, gala Oddio Ok, hai mazzo ora Zucchetto? Zucchetto No, se la fa Ce la fa, impazzisco Mamma mia Endgame, ragazzi Beh, questo Questo sempre con te La senza Sto laggando troppo Eh, scopa Dove stai andando, gala? Ok, vattene proprio Dici? Ok E' andato pure lui Infatti dove andrà più giù Bello Sì, fra Uno contro uno Non è vita, però E non è proprio vita, proprio Quello qua c'è il zucchetto Fra, c'è il zucchetto Non ci credo che ha il zucchetto Ok Però sei più forte Sei più forte Sei più forte Sei più forte Sì, sei più forte Solo Gala Ok, mi stai prendendo L'ansia Non voglio più registrare Non te Bello L'hai preso Dai, l'hai preso 70 Oh, ma questo è mortale Zì, l'uomo più mortale Della storia Oh Ma quanti ce ne ha? No, gala No, gala Vabbè, zì Ma che cazzo è questo? Vieto alto 400 L'avevo detto Avevo scommesso Che ce l'avrebbe fatto Perché era pieno di materiali Pieno di vita Tutto aveva Vai, gala Dici Dopo sta vittoria, gala Dici, dai Purtroppo Almeno per questo periodo Non ci sarà più gala di una volta Non giocherò più come una volta Ma Non è finita qui Perché io voglio sfidare Un ragazzino di 12 anni Perché io non ci sto Che ci sia un altro Pad player più forte di me qua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti